Bene, un saluto a tutti quanti amici di Android Blog 10 Mobile quest'oggi vedremo le novità sul Samsung Galaxy S4 nella versione brand, in mio caso Vodafone apportate dall'aggiornamento ad Android 4.3 perché la tastiera? Perché la tastiera è stata aggiornata in modo più efficiente mi piace molto di più digitare su questa tastiera ciao, come va la vita? e sicuramente è molto più precisa rispetto a prima l'ho trovata una buona cosa altre due cose sono cambiate sono le widget torcia e applicazioni attive che si sono rimpiccioliti, anche questa mi è piaciuta non mi è piaciuto invece questo Nox che spesso blocca, mi esce qui delle notifiche che alcune applicazioni sono state bloccate non si sa bene per quale motivo e mi rimane qui questa barra che non mi piace perché quando devo andare a cancellare qualche notifica spesso mi capita di premerla se sto di fretta e soprattutto mi mangio a spazio e soprattutto Nox non mi è sembrato così utile o perlomeno così importante da metterlo in questa posizione bene, detto questo il browser anche direi che è particolarmente che è particolarmente migliorato quindi andrei ad aprire il nostro sito Android Blog come vedete guardate come si è rinnovata la grafica con Android 4.3 sono messe qui le varie schede mentre qui praticamente abbiamo come vedete il browser è migliorato molto ci permette di essere molto più fluidi su Intel apriamo però The Verge per fare una prova del 9 visto che The Verge sul Samsung aveva sempre tanti problemi ad essere aperto proprio sull'S4 invece in questo caso voglio vedere qui con voi come sta andando in questo caso come va in questo caso The Verge visto che era un po' il tallone da kill il browser per l'S4 con tanti lag con tante difficoltà ok guardiamo un po' beh direi che rispetto a prima il browser è nettamente migliorato guardate non ho sì ho ancora qualche piccola difficoltà perché sta ancora caricando il sito ok ora non so cosa è successo ho premuto qualcosa ok perfetto direi che davvero non c'è nessun problema adesso o perlomeno sono molto molto migliorati rispetto a prima rispetto a prima poi diciamo che altre altre cose che però non posso farvi vedere perché sono più che altro sensazioni mi sembra che sia o perlomeno sia sensazioni e sia date da Samsung nella sua nella sua stesura dell'aggiornamento e stanno migliorate la gestione della RAM e il launcher della TouchWiz quindi un miglioramento sia dal punto di vista dei caricamenti e meno lag in effetti mi è sembrato essere più fluido il dispositivo sembrerebbe che siano stati migliorati anche i colori sul display sinceramente il display mi è sembrato sempre essere di estrema qualità è fantastico quindi sì forse qualche miglioramento ci sarà pure stato ma all'occhio umano forse non è così visibile infine e sarà fatta una nuova modalità di lettura quindi il display migliorato per andare a leggere e l'ultima cosa sarà migliorato anche il firmware della camera che diciamo che sostanzialmente dal punto di vista perlomeno estetico è rimasto sostanzialmente lo stesso però Samsung afferma che ha migliorato proprio il firmware e quindi la qualità ancora migliore dal punto di vista software della fotocamera quindi diciamo che queste sono le principali ecco le principali modifiche e caratteristiche che sono state apportate da Samsung sul sul Galaxy S4 una novità ancora più importante che ho lasciato alla fine è la compatibilità del Galaxy S4 con il Gear quindi sicuramente anche da questo sarà spinta la Samsung ad aggiornare magari più rapidamente del solito questo dispositivo quindi l'S4 ad Android 4.3 che quindi ci permetterà di utilizzare anche il Galaxy Gear quindi direi ragazzi allora che per questo focus sull'aggiornamento del Samsung Galaxy S4 versione brand il mio ripeto era Vodafone ad Android 4.3 e tutto Mauro degli Innocenti per Android Blog ciao ciao